e non vedo l'ora di ritornare a casa perché ho tantissima fame ma non mangio da qua non mangio da non mangio da ieri sera l'alfabeto da labiale no papà deve registrare sott'acqua non è il stop l'italia sedesta l'italia sedesta nell'elmo di cipio se andiamo prima così possiamo vedere bene allora era dammi lo zaino che lo mettiamo dietro già aspetta remo il filo avanti stai però di nuovo io schiacciasse nero ad da sopra si vede uno dai ma cos'è questa cosa papà non ci mi da vomitare mi da vomitare dai mangi un altro pezzo no no mi sento male tutto qui sei un vulcano ora sei un vulcano si ti va la pelle papà mi è arrivato qua ti va la pelle le stinture eh insomma allora prendo questa qui che ha anche un diverso colore da di quella eh spera non si vede ma tu mostri gli strumenti si papà quindi adesso che sta per arrivare Elena mi vado a nascondere e mi metto questo va bene tu la devi fa spaventare nooo e dopo che gli farò un quiz e se riuscì e solo se riuscirà a superare un quiz sul calcio avrei regalo questa vai fatto? si vediamo se lo puoi chiedere fuori ancora una ti devo accanto al tuo soldo si mettevano ti fai un ballo eh ti fai un ballo ti fai un ballo vada com'è il soffice vai 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 più lontano vai più lontano e cosa hai fatto? si robi il vento ma un clicca va dritta ma qua si è bloccata sotto non si vede sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiume aspa aspa perchè? però stoppa da là tutto pericoloso trova qua sopra qua difficile fai così no più così più così però hai visto perchè hai fatto questo? cioè stavo dando io un buon senso hai rovinato tutto hai perso hai perso hai perso hai perso tu prima però tu hai fatto a trucco qua se si possono buttare dai che tali sono già le 7.30 dai comunque Elena sto facendo super alta vicino a te io sto diventando vecchio io gli dico ciao 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 bebe vieni con me lo sai che ne hai visto? lo sai che bella questa l'ho già sbagliata molto c'è Elena ma ha fatto almeno un punto ma che guarda che guarda vedi che non sanno neanche tirare neanche per palleggi l'ho detto prima no palleggi neanche due palleggi sanno fare vado? vai sei ridicolo Remo però sono una prova che prova è prova non esistono le prove non posso perdere questa sfida perché non posso darti i soldi oggi eh Remo incomincia a dare i soldi mi devo impegnare vai terza sfida almeno non vale sappiamo ciao 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 Grazie a tutti.